Fabrizio Corona non smette mai di fare notizia, anche ora che sta finendo di scontare la sua pena nella comunità gestita da Don Antonio Mazzi. Solo qualche giorno fa era uscita la voce di una sua presunta relazione con Silvia Provvedi, una delle gemelle vincitrici dell'Isola dei Famosi e cantanti uscita dal talent di X-Factor. La relazione, qualche giorno dopo, è stata smentita dalla stessa Silvia, che ha giustificato le sue visite a Corona dicendo che con lui ha soltanto un semplice rapporto lavorativo. Ma ora circola un nuovo gossip, se possibile ancora più succoso. Secondo quanto scritto dal sito d'Ago Spia, pare che la nuova visitatrice assidua della comunità di Don Mazzi sia niente meno che Aurora Ramazzotti. Ma a tuttora non si hanno prove certe della presenza della giovane figlia di Michelle Unzicherederos Ramazzotti nella comunità. Il sito d'Ago Spia lo dà per certo, ma ovviamente si aspettano sviluppi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!